Ciao ragazzi, quest'oggi vedremo un mini pc di marca Snunmu, modello CK10, è un mini pc dalle ridotte dimensioni ma con delle specifiche hardware davvero interessanti potete vedere dalle immagini l'unboxing dove troviamo oltre al dispositivo un alimentatore di fsp quindi un alimentatore di marca il dispositivo come dotazione ha una porta gigabit RG45, 4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, un lettore di card TF, un jack audio ed uno microfono e per la parte video, uscite video, è dotato di una porta VGA, un HDMI, una porta USB-C che oltre ad essere dati permette anche l'uscita video quindi diciamo che se da un lato avrei preferito più una porta DisplayPort o due HDMI al posto del VGA diciamo che con questa scelta del Type-C comunque riusciamo ad avere parecchie uscite video quindi parecchia scelta magari la VGA è stata scelta per permettere al dispositivo di essere collegato a vecchi monitor o anche TV andando avanti con l'analisi tecnica del dispositivo ho provveduto a smontarlo per capire cosa ci fosse al suo interno e devo dire che nessuno è rimasto sorpreso oltre che stupito poiché il dispositivo al suo interno è dotato di oltre che materiali di buona qualità bella robustezza anche perché lo chassis è in metallo all'interno ho trovato una RAM DDR4 di marca adatta con frequenza di 2666 da 16GB ed è upgradabile fino a 32GB questo è un aspetto che mi è piaciuto tanto perché i mini PC molto spesso hanno la RAM saldata direttamente sulla scheda madre e non permettono l'upgrade con memoria di maggiore capacità in questo caso noi oltre che a poter fare l'upgrade possiamo anche noi stessi scegliere quale tipo di memoria andare a installare è chiaro che la frequenza della RAM è rapportata alla tipologia di processore poiché diciamo che dobbiamo trovare una frequenza compatibile con il nostro i5-8579U oltre alla RAM che è un aspetto che ho gradito mi è piaciuta anche la possibilità di poter installare oltre al M2 SATA che viene fornito dal venditore da 256GB che ahimè in questo caso non è di marca ma comunque durante i test si è dimostrato in linea come velocità rispetto agli altri competitor quindi diciamo che si salva in calcio d'angolo non so garantire l'affidabilità e la durata nel tempo ma comunque devo dire che il sistema è perfettamente veloce negli avvi i caricamenti sono ridotti quindi comunque come SSD fa sempre comodo è chiaro che può essere sostituito anche con un NVMe PCI Express 3.0 tranquillamente perché lo slot è compatibile sia con M SATA che NVMe oltre a questo possiamo installare un altro SSD aggiuntivo M2 SATA però di taglio anziché cioè di standard anziché 2280 ma 2242 un formato più piccolo oltre a questo viene fornita la possibilità di poter installare un hard disk o un SSD SATA da 2 pollici e mezzo quindi diciamo che sotto l'aspetto dello storage abbiamo ampia scelta e anche in questo caso devo essere sincero è un aspetto che non va sottovalutato per la connettività abbiamo una scheda di rete nello specifico il modello è Intel 7265 NGW che ha come standard wifi l'802.11ac ossia un wifi 5 e permette anche la connettività con bluetooth 5.2 oltre a questo il dispositivo ha un lettore di impronte digitali che permette devo dire in maniera molto rapida e precisa lo sblocco del dispositivo e per finire abbiamo un processore i5 8579U che è un processore 4 core 8 threads con frequenza fino a 2.4 giga hertz ora dopo che ho detto questo tra l'altro la GPU è integrata ed è una Iris 655 una GPU integrata non è pensata per il gaming però comunque si difende abbastanza bene nell'utilizzo generico con varie applicazioni come office navigazione con youtube diciamo che va bene quasi per tutto potete anche fare del montaggio video ma molto blando e basico tralasciando questi aspetti positivi un aspetto non mi è piaciuto e questa critica la voglio fare perché è una critica importante a mio avviso il dispositivo viene fornito con Windows 11 e quando sono andato a verificare il TPM ho scoperto che il TPM è la versione 1.2 e quindi va da sé che come requisito per poterlo installare il Windows 11 Microsoft abbia messo il TPM 2.0 al che mi viene da dire come hanno fatto a installare il Windows 11 senza avere il TPM hanno usato un sotterfugio che diciamo si può utilizzare scaricando Rufus la versione 3.16 la beta e creare una chiavetta senza TPM e quindi bypassare il controllo di Microsoft installare tranquillamente il sistema operativo ma non andremo a beneficiare delle specifiche e delle opzioni di sicurezza introdotte dal nuovo sistema operativo ossia il BitLocker BitLocker che è molto importante a mio avviso poiché permette di cifrare di creare una chiave diciamo privata per cifrare il disco quindi con questa chiave di cifratura noi andiamo a diciamo criptare tutto il nostro storage e quindi qualora dettaglio non da sottovalutare dovessimo perdere il dispositivo o in qualche modo il dispositivo può essere manomesso o ci viene trafugato lo storage o magari andiamo a pescare un malware o un Cryptolocker un ransomware comunque varie tipologie di virus diciamo che i nostri dati essendo cifrati non possono essere diciamo rubati da un malintenzionato è chiaro che qualcuno potrebbe dirmi e vabbè ma c'è lettore di impronte digitali hai anche la possibilità di mettere la password sì ma questo non basta perché un utilizzatore esperto potrebbe utilizzare dei programmi che sono in grado di leggere il file di registro sem alterarlo e quindi rimuovere la password e accedere tranquillamente al dispositivo e quindi avere pieno possesso dei vostri dati a casa mia questa non è una cosa piacevole perché i dati possono essere sensibili e quindi la custodia è diciamo che è molto importante invece con il TPM 2.0 anche se un malintenzionato dovesse utilizzare dei programmi per alterare il SEM comunque non potrebbe farlo perché il SEM è sempre nascosto all'interno di questa partizione cifrata quindi direi che è una sicurezza importante è chiaro che uno mi potrebbe dire sì vabbè ma se io non uso il BitLocker il dispositivo funziona? sì il dispositivo funziona benissimo è un ottimo dispositivo si comporta bene in tutte le situazioni però visto che aveva tutti questi aspetti positivi perdere dei punti a causa di una leggerezza di questo tipo dispiace perché magari il venditore poteva in maniera trasparente dirlo invece non lo non lo non lo menziona e al tempo stesso anziché venderlo con la versione di Windows 11 che diciamo può essere rallettante all'utilizzatore perché uno vede Windows 11 quindi il dispositivo è fantastico poteva installare tranquillamente il Windows 10 e quindi dire il dispositivo ha queste specifiche ma non ha il TPM quindi se volete usare il BitLocker non lo potete utilizzare ma potete utilizzare comunque altri programmi terzi per poter cifrare il disco e comunque avere quel livello di sicurezza questa è una critica che per me è doverosa da fare perché comunque tenere all'oscuro l'utilizzatore e usare dei sotterfugi per installare il sistema operativo che comunque per quanto possa essere genuino è un sistema operativo comunque alterato perché è un conto che tu ti fai una chiavetta con il tool di Microsoft e ti vai installare il sistema operativo è un conto che tu vai in qualche modo a crearti una ISO adattata questo è l'unico aspetto negativo del dispositivo per tutto il resto mi è piaciuto davvero tanto tanto lo consiglio perché tra i vari mini PC è quello che mi ha convinto di più perché molto spesso i mini PC hanno dei processori se le ROM hanno una RAM saldata magari di DR3 diciamo che tra le tante opzioni questo è quello che mi ha convinto di più perché è quello più utilizzabile ed è quello che comunque riesce a riesce a reggere un carico di lavoro importante detto questo vi lascio con i vari test che ho fatto vi ringrazio per l'attenzione spero che il video sia stato utile se vi fa piacere lasciate un like e iscrivetevi al canale grazie ancora ci vediamo al prossimo video